ciao a tutti amici oggi origano tagliare a fette sottilissime la patata uno vedete stessa cosa fate per una zucchina un rotolo di pasta sfoglia da 230 grammi con tutta la carta forno tagliate la carta in eccesso bucherellate un po 5 6 cucchiai di passata di pomodoro anche meno 34 sale sulla pasta sfoglia basilico e quattro fette di prosciutto cotto aggiungiamo due fettine di sottile adesso in modo alternato mettiamo la fettina della zucchina e poi mettiamo la fettina della patata sovrapponete un po la zucchine il bordino della zucchina con la patata ha un effetto è carino mi piace ecco usato saltoreggia timo e rosmarino per concludere una bontante spolverata di origano questo vediamo così guardate che bello che profumo giusto un filino di olio poco a poco di sale vediamo i bordini bagniamo con un po di latte e andiamo ad infornare forno caldo 190 gradi per circa 25 30 minuti come guardate che meraviglia eccola qui